come scoprire chi ti ha bloccato su facebook lo vediamo in questo semplice ed umile tutorial di oggi vi fornirò ti fornirò due diciamo così escamotage due aiuti per scoprire per capire chi ti ha bloccato su facebook la prima strada quella di entrare nel tuo profilo compie la ricerca della persona che pensi ti abbia bloccato se non ti appare ma questa persona ha un profilo pubblico ed è quindi regolarmente iscritta a facebook significa che con ogni probabilità ti ha bloccato in questo social network che appartiene a mark zuckerberg viceversa se ti appare la persona che tu sospetti ti abbia bloccato significa che effettivamente parlando non ti ha bloccato quindi non ha compiuto l'operazione in questione l'azione in questione ok la seconda strada che è l'ultima è quella di crearti un nuovo profilo su facebook con una nuova email oppure con un telefono con un numero di telefono e andare a fare la ricerca nello spazio adibito in alto nel rettangolo di ricerca della persona che sospetti a ti abbia bloccato nel tuo profilo originale ovviamente ti dovrà creare un profilo falso senza mettere foto e inventando di dati proprio per non andare a incorrere in problemi legali quindi ti dovrà creare per esempio un profilo che si potrebbe chiamare fausto geldiluzzi che non esiste ok michele falcarughi capito quindi nomi e nome e cognome strani assurdi che non esistono fai la ricerca della persona che pensi ti abbia bloccato se è presente se hai scritto al social network ma nel tuo profilo originario non appare significa che nel tuo profilo originale ti ha bloccato invece in quel nuovo che tu hai creato chiaramente non ti ha bloccato ed è visibile attenzione un profilo facebook potrebbe anche essere privato in questo caso diciamo così che non figura se ha scelto di non apparire nelle ricerche di facebook in questo social network grazie grazie a tutti il video termina qua spero di essere stato chiaro un saluto caro da leandro narratore italiano